Ma buongiorno, buongiorno, no vabbè, vabbè diciamo che è quasi realtà il fatto di montare la tenda ed essere imbranati Sicuramente voglio dire qualcosa di storto la monteremmo per cui rismontarlo e rimontarlo Mado, vabbè farò le prove, dai, non appena arriva la tenda Non appena arriva la tenda, me la monto in officina, vediamo se tutto funziona per il verso giusto Vabbè non ti preoccupare, la monto io Tu dirigi e io monto, dai facciamo così, dai Magari, mamma mia, tu non puoi capire la felicità Averti lì con me a montare la tenda Ma non si sa mai, non si sa mai Non si sa mai Va bene Stanotte ho dormito meglio Ero proprio stanco Sono addormentato, anche se ti svegli perché comunque fa caldo La torsione del bar Ero, dai Meglio di queste altre due o tre sere precedenti Pure la macchina si inizia a lamentare il ciclo lì Sente, cic, cic, cic Bisogna di un po' di olio eh, dai dopo 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 lo sistemiamo mostro, andando a prendere ho fatto già colazione, cuore eh eh no, mostro facendo colazione sempre giù la benzina sì, non sono eccezionali i cormetti perché sono quelli, sai i cormetti industriali dai, bravo dai sono commestibili dai, va bene, va bene così eh eh niente, mo stavo andando a prendere Peppino stavo andando a prendere Giuseppe sono arrivato oh, abbiamo ordinato i colanto dei bracciali quelli anti-zanzare insomma eh sì, perché per il campeggio, sai ci possono essere non è detto che ci sia però, sai, è meglio essere prevenire che puoi andare di fretta a vedere da dove si possono trovare anche se veramente mi son dimenticato però stamattina ve la volevo mettere un bracciale anti-zanzare sì, perché poi pure al campo estivo dove va ci sono le zanzare si mette il il, come si chiama il l'outan però volevo evitare non farglielo mettere più farglielo mettere sulle braccialette eh va buono ma vediamo se non torniamo giù lo andiamo a prendere ma vediamo ma vediamo ancora ma vediamo eh questo non vuole passare va bene tu hai fatto colazione? eh 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 dai forse oggi lavoriamo eh beh basta che hai riposato bene questo è l'importante beh corre lì e ci sentiamo dopo ok mi raccomando continuiamo a lavorare come si vive speriamo solo che possiamo iniziare ad usare questo power port ma spero si sia soprattutto cicatrizzato che quella è la cosa importante ecco perché non l'abbiamo ma io credo che siamo agli sgoccioli insomma eh va bene ci sentiamo un bacio un cuore e un abbraccio ciao la morte un abbraccio per lui Grazie a tutti.